E le emergenze nelle aule si affrontano anche con le nuove tecnologie presentate a San Ginesio i corsi del MIUR di formazione per gli insegnanti. Buongiorno, ben trovati dal telegiornale della RAI delle Marche. Parliamo di scuola perché siamo ormai a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. E sono stati presentati a San Ginesio i copercorsi di formazione fare rete con il digitale finanziati dalla MIUR per le aree a rischio. L'iniziativa è organizzata dall'Istituto di istruzione superiore Alberico Gentili. Simonetta Ippoliti. Formare i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sulle nuove tecnologie per favorire l'inclusione scolastica, sulla didattica immersiva e sull'approfondimento del tema dello sviluppo sostenibile per l'insegnamento dell'educazione civica. Con un'attività formativa per la gran parte improntata su esperienze laboratoriali, fruibili anche online. È l'obiettivo dei percorsi di formazione fare rete con il digitale finanziati dal MIUR per le aree a rischio. Noi vorremmo dare gli strumenti per poter affrontare con maggiore facilità, con più preparazione, un futuro che potrebbe ripetersi, che potrebbe essere ancora difficile e quindi utilizzare le risorse tecnologiche e il digitale per una didattica diversa, più inclusiva, più innovativa. La reazione all'emergenza è così vissuta come un'opportunità di riscatto e di crescita attraverso la creazione di una rete di docenti che possa offrire al territorio strumenti per superare il gap educativo che si è creato dopo due emergenze successive, il terremoto prima e la pandemia poi. E a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico si pensa ad un ritorno in sicurezza. Ci siamo preparati ad affrontare questa ripartenza prevedendo tutto ciò che era necessario attraverso un piano scuola, attraverso una collaborazione con l'ingegnere per la sicurezza, prevedendo un comitato Covid e un referente Covid, insomma per accompagnare e sostenere eventuali situazioni di presenza del Covid perché non siamo sicuri del rischio zero.